Sono Riccardo del Popolo degli Elfi. Come viviamo questa situazione del coronavirus? L'abbiamo vissuta molto dal punto di vista emozionale, ci siamo incontrati specialmente nel primo periodo, confrontandoci molto sulla situazione e sul da farsi. Abbiamo delle persone anziane, persone un po' più a rischio, alcune erano completamente serene riguardo a tutta la situazione, altri si sentivano un po' in pericolo. Dopo lunghe discussioni abbiamo deciso di chiudere all'arrivo di nuove persone e quindi c'è stata questa situazione un po' strana, un po' diversa dal solito, in cui abbiamo vissuto insieme esattamente con lo stesso numero di persone e il gruppo in qualche maniera si è rinsaldato molto. Questo è un posto dove passano centinaia di persone ogni anno e che quindi vede un'energia sempre in evoluzione a seconda di chi va e di chi viene. Invece questa chiusura ha permesso alle persone che vivono qui e alla famiglia che vive qui di rinsaldare i rapporti, di entrare più in profondità, di in qualche maniera coltivare un po' più il gruppo. Per il resto abbiamo vissuto abbastanza serenamente, quindi coltivando gli orti, continuando tutte le attività agricole. Sinceramente non c'è stata una grande differenza dal precedente stile di vita. Credo che molte persone in questo momento desidererebbero stare in un luogo del genere. Credo che la scelta dell'ecovillaggio sia una scelta vincente, perché comunque ci permette di stare a contatto con la natura, produrre del cibo dal proprio orto, continuare ad avere relazioni, i bambini sono liberi di giocare e quindi ci sentiamo molto più fortunati di chi è rieduto rimanere in città o chiuso nei propri appartamenti. Credo che sempre più persone faranno questo tipo di scelta o cercheranno di modificare le proprie scelte di vita. Io sono fiero di quello che ho scelto, sono orgoglioso del luogo in cui vivo e vorrei mandarvi un abbraccio a tutti e speriamo di riabbracciarci presto. Un abbraccio. Ciao. Grazie a tutti.